Il 29 dicembre allo Stato Olimpico della Capitale tornano in campo le glorie della Roma, quei ragazzi che hanno indossato negli 88 anni di storia la maglia giallorossa per tornare a vivere una giornata indimenticabile insieme ai loro tifosi. Con questo spirito Vincent Candelà ha deciso di organizzare l'evento Voi siete leggenda dedicato a tutti i tifosi della Roma. Ci saranno tante belle sorprise per loro e anche per noi una grande emozione di tornare all'Olimpico tutti insieme con le più anziane a quella anche attuale, a qualcuna di attuale che sarà delle nostre. Quindi per ringraziare quelle che ci hanno dato e soprattutto per cambiare anche alla fine l'obiettivo nostro sia della squadra sia dei tifosi per una giornata di beneficenza che è la cosa più importante e quindi io mi auguro che siamo tutti insieme, tifosi, squadra, giocatore, per aiutare queste bambine che sono il futuro e quindi per dare l'esempio allo stadio che anche con la delusione, con le strutture che ci siamo messi in testa, le delusioni, le frustrazioni magari qualcuno e che si può ricominciare e dare l'esempio ai nostri bambini, ai bambini che sarà il nostro futuro, quindi quello è l'obiettivo. L'incasso sarà devoluto in beneficenza per aiutare i bambini, le cui famiglie sono in difficoltà economiche e sociali, ad una crescita sana attraverso lo sport. Questo evento è importante per Action Aid perché Action Aid lavora con lo sport, ha un partnership con il CONI verso le Olimpiadi del 2016, ha dei protocolli con 10 sport, anche con il calcio lavoriamo molto, lo usiamo per recuperare i ragazzi nelle periferie disagiate d'Italia e del resto del mondo e quindi era semplicemente naturale che anche il popolo giallorosso si unisse a quello rosso di Action Aid per in qualche modo farsi, che si possa uniti, procedere anche nel 2016 a lavorare contro l'esclusione sociale.